Buonasera, sono molto contento come tutti noi di partecipare finalmente all'apertura culturale di questo posto. Io l'ho visto quando era stato da poco ceduto nelle mani sapienti dell'associazione che adesso sta cercando formalmente di lavorare in questo posto culturalmente, nel senso più nobile del termine. Mi fa molto piacere perché appunto li conosco da anni, li stimo moltissimo, siamo amici e dunque è una cosa che mi fa estremamente piacere e parlo volentieri anche di quello che appunto sentirete questa sera. Io mi collego velocemente a quello che è stato detto prima giusto per fare un ponte, si è parlato spesso di confraternite, soprattutto per questo luogo, tuttora è una confraternita. La confraternita, soprattutto nei primi anni del XIII secolo, è fondamentale per quanto riguarda il rapporto che la città da un punto di vista laico e trasformandosi in confraternita di tipo di stampo religioso, ha in qualche modo il rapporto veramente forte con quello che è il mondo della musica, nella produzione musicale. Che significa nella produzione musicale? Le confraternite richiedono a compositori locali e non solo la scrittura di brani identificati per le festività religiose importanti della città o della confraternita stessa o del santo di riferimento della confraternita e questo permette una elaborazione, soprattutto una produzione musicale elevatissima e abbiamo tantissimo materiale, soprattutto nel centro d'Italia. Uno dei più famosi è sicuramente il Laudario di Cortona, è una delle raccolte più importanti da un punto di vista proprio di confraternite. Per esempio nel Laudario di Cortona i documenti che ne parlano dicono sempre è un prodotto, un progetto musicale voluto e concepito tale dalla confraternita laica borghese dei commercianti di Cortona. Allora le cose sembrerebbero andare un pochino in contrasto. Da una parte abbiamo una confraternita di stampo religioso evidentemente ma che è formata dalla laicità in verità e dunque è quel mondo che si crea in qualche modo in parallelo a quello che era stato l'intramuros cioè l'elaborazione liturgica della musica, finalmente, nel senso, non finalmente perché non se ne poteva più ma finalmente nel senso temporale del termine, questa musica diventa musica estramuros cioè fuori dalle mura ecclesiastiche. Che significa questo? Che l'elaborazione di tutto questo materiale musicale diventa in qualche modo capitale culturale di un numero molto più elevato di persone. In poche parole la musica che viene utilizzata soprattutto nelle liturgie paraliturgiche cioè ovvero quello che succede fuori della Chiesa è di tutti. C'è questa sensazione, diventa un po' di tutti. È vero, non è che tutti sapessero cantare e non tutti sapessero leggere tanto più ma la cosa interessante qual è? Che le scuole, dunque le scuole cantorum volute dalle confraternite nei loro spazi identificati come sedi delle confraternite si sviluppano moltissimo soprattutto con i pueri, con i bambini e viene insegnata la dottrina del canto a molte più persone perché queste persone verranno utilizzate per il canto delle laudi nelle drammatizzazioni, nelle sacre rappresentazioni delle città per cui diventa esattamente l'esposizione di quello che è la storia per esempio del Vangelo sulla strada. Questo è la nascita per esempio del presepi vivente in altre parole. Il presepi vivente come lo intendiamo noi è una cosa molto diversa probabilmente dall'originale noi sappiamo che Greccio è stato il primo esempio di presepi vivente questo per la storia della musica e la storia del teatro in generale si rifà a San Francesco e così via la cosa interessante però qual è? Che veniva cantata, si usava il canto come dimostrazione di capacità proprio territoriale, in qualche modo, di memorizzazione questo è rimasto nella tradizione popolare che significa? Significa che era un sistema per imparare storie lunghissime con tantissimi capitoli dentro a memoria attraverso l'uso di una melodia queste melodie da cosa provenivano? Non è che nascevano dal nulla spesso erano melodie che provenivano dal mondo e dal campo gregoriano ma noi sappiamo che il gregoriano è amensurale cioè senza la mensuralità del gregoriano detto veramente in poche parole perché bisognerebbe aprire un discorso infinito significa conoscere assolutamente il modo con cui si canta un certo tipo di gregoriano c'è un modo, esistono delle leggi in qualche modo esistono delle leggi secondo le quali si fa pratica del gregoriano improvvisamente vengono sistemate molte melodie che appartengono al mondo liturgico e dunque conosciute da moltissime persone vengono sistemate matematicamente dando un ritmo e diventano strutture melodiche con ritmo che diventano patrimonio anche queste di un'umanità molto più elevata cioè nel senso viene conosciuta da tantissima gente questa melodia e dunque anche la canzone viene memorizzata tutti riescono a cantare delle melodie che conoscono su queste melodie che facevano? mettevano dei testi che non erano quelli del gregoriano e dunque nasce una pratica che viene chiamata la pratica del contraffatto soprattutto all'inizio del 200 fino a tutto il primo 300 la pratica del contraffatto è esattamente questa prendere una melodia molto nota metterci il suo testo religioso e farla diventare molto famosa prendere un testo profano metterlo al posto del testo religioso e cantare la stessa cosa perché era memorizzata tutti la conoscevano è esattamente come nella pratica che sta scomparendo del tutto nel centro d'Italia del canto della declamazione in ottava rima che era tipica per esempio di città reale di queste zone qui si faceva e con la melodia riuscivano a memorizzare tutta la divina commedia su quelle melodie improvvisavano altri testi la melodia serviva come mnemotecnica una cosa che uno ha in testa sulla quale mette delle parole e con quell'accento e con quella cadenza musicale riesco a memorizzarla ancora di più questo è quello che succede all'inizio appunto del 200 e all'inizio del 300 nel 300 musicalmente soprattutto in Italia e in Francia si assiste a una modifica veramente del gusto dell'estetica che significa che la musica comincia a diventare molto più complessa da un punto di vista di scrittura musicale questa complessità si trasforma in speculazione da un punto di vista proprio filosofico non speculazione economica ma speculazione matematica, retorica, grammatica anche perché nascono le facoltà delle arti le facoltà delle arti cioè l'università contemporanea in qualche modo ecco si sviluppano i processi mentali per i quali c'è una dinastia in qualche modo piramidale delle importanze attraverso l'utilizzo della composizione musicale ovvero che la retorica e la grammatica del testo sono più importanti della composizione musicale che però il testo deve rispettare la composizione musicale ma al contrario la composizione musicale non può modificare la scrittura nel senso gli accenti delle parole soprattutto nel mondo religioso non possiamo utilizzare delle frasi, delle parole o delle tematiche religiose cambiando l'accento delle parole chi è che ce lo dice questo? ce lo dicono in tanti in verità uno dei più importanti fu un papa francese Giovanni XXII il quale appoggiando le teorie di un dottissimo teorico della musica che si chiamava Jacques Daliège un belga, diciamo un fiammingo avremmo detto cento anni dopo il quale diceva io sono per difendere l'antichità e sono contro il progresso della musica divenne un'enciclica papale cioè in qualche modo si condizionò la scrittura musicale affinché non perdesse le caratteristiche che fino a quel momento si erano ben instaurate proprio in tutto quel sistema che vi dicevo prima scusate vado un po' veloce però sono cose sulle quali bisognerebbe ragionare molto ma voglio arrivare poi al nodo centrale della serata insomma che succede? succede che molti compositori al contrario si ostinano e dicono ma neanche per sogno continuiamo su una direzione nuova e che cosa prendono ad esempio e così mi rifaccio anche in qualche modo al neoclasticismo che cosa prendono come esempio? esattamente il neoclasticismo ovvero Ovidio in questo caso e dicono come Ovidio dice nelle metamorfosi in nuova offerta animus mutata di cereformas cioè in un nuovo modo l'uomo comincia a ragionare e a fare altre cose nel rispetto di quello che c'è intorno da quel momento in poi c'è una rivoluzione incredibile nel mondo musicale che porterà allo sviluppo più estremo delle composizioni polifoniche e così via anche dei testi e così via la cosa interessante qual è? che fino adesso però tutte le volte che parliamo di testi religiosi in musica sacra o paraliturgica ci troviamo sempre di fronte a un mondo nel quale l'esigenza è quella di memorizzare delle melodie che hanno un sistema modale che hanno un riconoscimento molto forte in quello che è tutta l'antichità della storia della musica liturgica e paraliturgica improvvisamente però la musica profana proprio per questi motivi prende un sopravvento interessante da un punto di vista proprio di composizione diventa la musica da ascolto diventa esattamente come facciamo noi oggi la ascoltiamo non è più speculazione matematica ma diventa musica da ascolto questo soprattutto quando? quando in Italia possiamo cominciare a immaginare un periodo che prenderà poi il nome di umanesimo cioè tutto il 400 soprattutto nel centro Italia che succede? succede che la musica profana è diventata talmente famosa talmente conosciuta talmente ricercata talmente tanto pagata che molti compositori tra i più importanti in Europa vengono chiamati proprio nel centro Italia uno per l'importanza che aveva la musica a Roma e dunque nella corte papale in qualche modo e in tutto il centro Italia chiaramente ma anche fuori da questo tipo Firenze era comunque una capitale della cultura Mantua era una capitale della cultura Milano era una capitale della cultura Napoli, Palermo tutte le grandi città che tuttora sono capitali della cultura l'esigenza di avere grandi compositori capaci di lavorare sulla linea della musica profana e sulla linea della musica liturgica o paraliturgica era diventata una necessità importantissima da un punto di vista di mecenatismo cioè essere un mecenate cioè un cortigiano con la possibilità economica di avere grandissimi compositori a corte questo succede soprattutto appunto nel 400 quando in Italia si cominciano a chiamare quei grandi compositori che vengono dalle Fiandre da Bruges in particolar modo e da Ghent che è ancora oggi la capitale della cultura fiamminga venivano chiamati in Italia assumevano altri nomi venivano pagati per comporre venivano pagati per cantare venivano pagati per suonare e inventarono quella che poi era l'esigenza estetica del gusto dell'epoca inventarono proprio un sistema musicale che ha dato un'impronta fortissima al 400 e poi ha lanciato tutto il rinascimento che succede? che la musica sacra però perde in qualche modo non di valore perché è importantissima tutti scrivono sia sacro che profano ma perde forse quella capacità di essere quell'utilizzazione musicale del proselitismo se volete religioso cioè quelle parti musicali di indole in qualche modo di citazione popolare ma che sono sempre colte che invece avevano avuto con tutta la storia delle laudi che dicevamo prima e che succede allora? e nascono di nuovo i contraffatta come nascevano all'epoca i contraffatta profani dentro la musica sacra improvvisamente adesso siccome la musica profana è diventata conosciuta da tutti e la suonano tutti bisognerà cambiare i testi profani con testi o liturgici o paraliturgici in qualche modo soprattutto di stampo laudistico cioè sono delle laudi dei racconti che si rifanno alla liturgia o alla paraliturgia e che raccontano anche cose giornaliere della vita religiosa in qualche modo o miracoli oppure preghiere in qualche modo riadattate ad un testo poesie d'amore e religiose e così via la cosa interessante è che questi contraffatta non vengono fatti su musiche scontatamente conosciute vengono fatte su un repertorio molto complesso appunto quello anche dei fiamminghi è per questo che improvvisamente in Italia troviamo delle formule che sono quelle degli strambotti quelle delle barzellette quelle delle frottole così come il nostro nome anonimo frottolisti che sono forme esattamente come nella letteratura le ballate e così via sono nomi che riguardano espressamente il mondo musicale in queste frottole in queste strambotti e così via che sono molto più simili a quello che poi sarà il mondo della commedia dell'arte in queste musiche qui dal carattere citazionalmente in termini sbagliati ma come citazione popolareggianti ma che sono sempre comunque colte perché scritte improvvisamente cominciamo a trovare non più storie d'amore storie spesso o se anche un po' pesantine con accuse fortissime soprattutto alla suocera o piuttosto alle figure che sono di una in qualche modo precedente commedia dell'arte dunque di questi cavalieri ubriachi fradici che fanno danni continui che sono una presa in giro della società laica diciamo così estramuros appunto improvvisamente perché proprio queste canzoni sono così famose si cambiano i testi e si inseriscono dei testi che sono invece fondamentalmente di matrice religiosa o comunque devozionale ecco la parola più importante a questo punto è la devozione perché questa musica essendo così suonata con i testi modificati diventano puro come dire arricchimento di quello che era il mondo liturgico paraliturgico di 200 anni prima in pratica in altre parole ci sono tantissime canzoni in Italia tuttora che noi conosciamo e che spesso per motivi strani hanno cambiato testo però su quella melodia si cantano tante altre canzoni voi immaginate la musica degli alpini faccio un esempio veramente banale gli alpini usano delle melodie che si assomigliano tutte ma magari l'alpino del friuli canta su quella melodia un testo che parla della prima guerra mondiale esattamente delle sue zone citando i suoi posti e parla appunto del mamma che non c'è più il babbo che è morto giustamente quelli erano i temi la stessa melodia in trentino da altri alpini viene utilizzata ma le parole non sono più quelle si racconta un'altra storia quello è un contraffatto contraffarre in questo caso essere contraffatti non è come per noi in termine moderno il quale compro una borsa ma è contraffatta non è quella de moda ma è quella appunto fasulla no il contraffatto era proprio un'arte altissima di letteratura perché nella stessa grammatica nella stessa sillabazione nella stessa fase ritmico retorica dovevano essere messi dei testi che avessero la stessa valuta in qualche modo di quelli originali che normalmente erano poesie perché uno che scriveva questi brani per esempio era il poliziano il poliziano non sapeva scrivere insomma non era uno scemo del tutto ecco scrivere un testo al posto di quello di poliziano doveva essere fatto da una mano forte una mano molto importante quello che sentirete stasera in altre parole è esattamente questo vi faremo sentire il passaggio tra la musica profana e la musica di matrice paraliturgica che avvenne esattamente tra la metà del 400 e il primo 500 ce l'ho fatta grazie a tutti grazie grazie a tutti